Ciao a tutti! Oggi volevo mostrarvi come realizzare la costa 2 e 2 su un lavoro circolare. Io l'ho già avviato, come potete vedere, e ho cominciato a lavorare qualche ferro. Sto realizzando un maglioncino per una bimba, interamente in top down, quindi dall'alto verso il basso, senza cuciture. E per il collo ho optato per questo tipo di punto. È un punto molto semplice, adatto anche ai principianti, nel senso che basta saper lavorare a dritto e a rovescio. Ora, dovete, prima di iniziare, calcolare di avere un numero di magli multipli di 4. Questo perché, altrimenti, rischiereste, avendo un multiplo semplicemente di 2, di chiudere il lavoro con 4 rovesci o 4 dritti, andando a rovinare un po' l'armonia di questo tipo di punto. Come vedete, io qui ho la marca punto per l'inizio del giro e vado a chiudere con 2 rovesci. 1, 2, riporto il filo davanti, sposto il mio marca punto e vado a lavorare 2 dritti. Successivamente, 2 rovesci. Cosa cambia rispetto a lavorare la costa su un lavoro piano? Cambia che dobbiamo, a fine del ferro, girare il lavoro. Girando il lavoro, non andremo a ripetere sempre lo stesso ferro, ma chiaramente cambierà perché bisognerà lavorare le maglie come si presentano. Con, invece, un lavoro circolare di questo tipo, basta ripetere sempre il primo ferro. Quindi, io ho iniziato con 2 dritti, 2 rovesci, fino alla fine, in cui concludo con 2 rovesci, come avete visto, e riprendo con 2 dritti. Alla fine, otterremo quella che è la nostra costa, che si presta molto bene per il collo, piuttosto che per chiudere le maniche, quindi quelle che poi vanno sul polso a stringere un po'. Come vi dicevo, io farò un maglioncino e cercherò di accompagnare un po' la mia realizzazione con dei video per farvi vedere come realizzare un maglioncino interamente in top down. Quindi, come vi dicevo, senza cuciture, che io odio particolarmente. Quindi, seguitemi e se vi è piaciuto il video, aspetto un vostro like e un vostro commento. Ciao!